La prima serata delle finali del settembre lucchese, che dopo sei anni torna al Porta Elisa ai colori del Tau Topascio, una delle più belle realtà del calcio giovanile provinciale e regionale. Il Tau trionfa nella categoria esordienti, coi ragazzi di Magrini che battono 2-1 l'Atletico Lucca. Vantaggio al Topascese al quarto d'ora con Chimenti, pareggio dell'Atletico al quarto d'ora della ripresa con Marinai. A un minuto dalla fine, il gol decisivo, segnato dal Tau con un gran sinistro di Di Bella. Il Tau concede il bis tra gli Juniors in un'altra finale combattuta, che vede prevalere gli Amaranti su una indomabile Folgor Marlia, per 3-0. Tau in vantaggio con Masini, il Tau un'orchestra che è un piacere per gli occhi, il 2-0 arriva solo al 28esimo della ripresa ancora per merito dello scatenato Masini. Il 3-0 allo scadere è di Tommasi e serve a conferire maggiore rotondità al punteggio e a suggellare i meriti dell'ottima squadra allenata da Mister Bacci. La seconda serata si apre con la categoria giovanissimi, derby versiliese tra Capezzano e Forte De Marmi. La spunta al Capezzano dopo i calci di rigore, 1-1 al termine dei tempi regolamentari, Lombardi porta in vantaggio i biancorossi di Agostini. Il pareggio Forte Marmino è un avvio di ripresa sul calcio di rigore di Di Emidio. Dagli 11 metri qualche errore non manca, diventa decisiva la parata di Oggiano sul tiro di Cimoli. Chiusura con la finale allievi tra Forte De Marmi e Atletico Lucca. Arriva riscatto dei Neroazzurri che vincono con punteggio tennistico una partita che non ha molta storia. Subito in vantaggio con Galli, il Forte raddoppia lo scadere del primo tempo con Specchia. La girandola di Reti negli ultimi minuti serve solo a determinare il punteggio finale di 6-2 che sancisce il trionfo della squadra dei Lucca Mosti. Va in archivio un'edizione bellissima del Settembre Lucchese, organizzata in modo mirabile dal San Macario Oltre Serchio con la partnership di Toscana Gol e il patrocinio del Comune di Lucca, appuntamento al Settembre Lucchese 2024.